Il responsabile può decidere di archiviare il procedimento mediante l'apposito bottone in basso a sinistra Archiviazione. Cliccando verrà chiesto di confermare l'azione. Dopodiché andrà inserita una motivazione. Con il bottone Preview sarà possibile visualizzare in anteprima la comunicazione di archiviazione del procedimento. Con Annulla è possibile annullare l'azione. Per procedere invece basta cliccare su Genera. Questa azione è possibile sia per i procedimenti di definizione che per i provvedimenti temporanei.